ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchikagimer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 sempre nell'Iro Colosseum e siamo qui pronti per continuare la nostra storia dovremmo essere ormai alle porte del torneo e siamo contro Pan torneo mondiale di miniature benvenuti a tutti ora inizio il torneo mondiale delle miniature inizieremo con le eliminatorie i vincitori procederanno al torneo del campionato le eliminatorie sono in stile Battle Royale trovate un avversario in città e sfidatelo lo scopo delle battaglie è ottenere 6 vittorie i perdenti verranno eliminati dal torneo ci sono in paio fantastici premi per i vincitori quindi fate del vostro meglio daremo inizio al torneo tra un'ora quindi partite dal punto che preferite ok quindi l'universo di provenienza del campione determina il vincitore ci sono anche io e questo significa che il sesto universo ha la vittoria in tasca ha parlato il verme che usa trucchi da codardo per ottenere un vantaggio non sono da codardo si chiama gioco strategico e se non sbaglio avete realizzato altre edizioni limitate rovinando i miei piani siete voi codardi non sono più edizioni limitate ora che ce ne sono così tante a chi hai dato del codardo ora te la farò vedere io conosci il significato di edizione limitata non c'entra il numero idiota oh stai cercando guai per caso sono pronta a combattere fatti sotto fermi fermi non dovete distruggere conton city regolerete i conti nel torneo dico bene se combattete sarete squalificati chiaro meglio evitare stammi bene a sentire bills il sesto universo ha diritto alla vittoria è un dato di fatto spiacente ma l'unico dato di fatto è che vincerà il settimo universo vi ricordo che io sono neutrale che situazione chiunque sia il vincitore conton city verrà distrutta dal perdente la nostra unica speranza sei tu visto che non non appartieni a nessuna delle due fazioni la salvezza di conton city dipende da te quindi vai e vinci intesi questo è a parlare bene contiamo su di te tutta questa sicurezza mi preoccupa un po siamo sicuri che te la caverai non preoccuparti parteciperemo anche noi ci siamo allenati insieme e mia madre mi ha dato molti buoni consigli sono migliorato molto farò un valido aiuto buona fortuna faremo il tifo per voi tre siete pronti ricordate per avanzare servono sei vittorie bene che il torneo mondiale delle miniature abbia inizio oh quella miniatura stai partecipando al torneo non è vero ottimo puoi combattere contro di me non hai ancora trovato un avversario vero eh 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 sono più forte di quanto sembri ho battuto sia trunks che il nonno mister satan cosa non mi credi molto bene ti darò una dimostrazione delle mie abilità forza che la battaglia abbia inizio pan livello maestro 40 contro me che sono un livello 54 che sono le sue miniature oh interessante perché quel il problema è che c'è mister satan questo è per quel cazzone di mister satan guarda l'ho fatto due attacchi diretti però sarebbe stato bene se ben o male l'avete proprio riuscito a colpire vegeta una miniatura sicura gliela faccio fuori e due attacchi diretti e due attacchi diretti pure l'attacco bonus mia meglio di così ok vai così pure attacco bonus ok ok vegeta contro vegeta ahhh povero evolution però è quello che mi taglio più da è quello che mi fa più danni devo proteggerlo perché è quello che mi fa molti più danni non c'è il passaggio ora mi provo a fare una roba 2007 2002 e 1000 tac tac rinuncio all'attacco diretto e faccio così bene anche vegeta va via si attacchiamo prima noi si si e dove è il 300 è qua vegeta ci saluta ok si si così vai e mi va bene e mi va bene va bene così va bene così attacco diretto di majin bu ok ci sta perfetto perfetto allora io spero una cosa tutto mi serve ragazzo e via ah l'attacco supremo di chi di 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 majin bu vediamo vediamo chi attacca prima lo è come sempre perché c'è mister satan ok se hai fatto una percentuale più bassa l'avrei fatta io cavolo allora vediamo dovrei riuscire a reggere eh ho ancora praticamente tutta la vita vabbè dai ho ancora due miniature che mi potrò attaccare il turno prossimo però non tolga tantissimo ottimo e resiste toglierlo di mezzo toglierlo di mezzo muori mister satan vai così vai vai mi dispiace pan hai perso te l'ho detto che hai perso saluta il panzone cosa? no vabbè tanto uno aveva allora beccati questo attacco supremo sfera evanescente ciao ciao no ho perso sarai anche un adulto ma non ti comporti come tale comunque ora combatti per me farai meglio a vincere il campionato no 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 e va bene bene allora mantieni la concentrazione bene avete superato tutti e tre il vostro primo combattimento la vera battaglia inizia ora il futuro di content city è nelle vostre mani buona fortuna ok molto bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto la prossima volta ripartiremo da qui io come sempre vi invito a lasciare un bel like a commentare condividere iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ciao belli ciao 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 Grazie